In città, da tempo ormai, il dibattito sull'utilizzo e la regolamentazione dei parcheggi a disposizione dei cittadini, dell'utenza in generale, non trova il corrispondente necessario interesse di tutti e viene sempre meno la corretta e civile disposizione delle auto in sosta. Questo l'incipit di Roberto Di Sante, amministratore delegato costruttori Terramani SRL, società che gestisce parcheggi a pagamento sotterranei San Francesco e San Gabriele e che si vede costretta a riportare all'attenzione dei Terramani, ancor di più degli amministratori più volte sollecitati in vano, quanto si verifica giornalmente in città, più precisamente nei pressi di piazza San Francesco, ovvi sorge il parcheggio multipiano da mille posti. Siamo a constatare quotidianamente che in molti, in troppi, automobilisti incuranti delle limitazioni normative lasciano il proprio mezzo in qualsiasi luogo o stallo, senza preoccuparsi minimamente dei passaggi pedonali, dei posti riservati a disabili, delle pensiline degli autobus e del trasporto urbano, delle strisce pedonali e dei parcheggi a tempo, il tutto arrecando disagio e pericolo alla circolazione. È evidente, prosegue la società, che non viene affatto esercitato il controllo da chi è deputato allo stesso. Quanto rilevato dalla società, evidenzia un sentirsi completamente abbandonata da chi dovrebbe impegnarsi, quindi ad operarsi, per rendere Terramo più bella e vivibile. Ai medesimi interlocutori, costruttori terramani rivolge un appello affinché si impegnino a fare ordine e mettere la parola fine a questo caos, per una migliore e più civile vivibilità della città di Terramo, con un controllo più puntuale e costante che andrebbe a vantaggio di tutti. In sintesi, chiedono controlli dei vigili urbani e conseguenti contravvenzioni. Osservazioni puntuali e corrette da parte della costruttori Terramani SRL, se non fosse che in realtà, come da resto comprensibile, il crucio non è tanto quello di vedere auto posteggiate dove non dovrebbero, bensì i mancati introiti, visto che i parcheggi multipiano gestiti dalla società restano praticamente vuoti. Risultano infatti piuttosto scomodi, soprattutto per chi, magari, deve recarsi il centro solo per pochi minuti o per chi non può permettersi un percorso a piedi per raggiungere il centro.